Le risorse della terra sono esaurite, il cambiamento del clima ha raggiunto l'abice. Tuttavia la tecnologia è ancora affamata di energia. Per soddisfare questa necessità inizia la costruzione di un impianto bio-nucleare. Poco dopo il suo completamento, un devastante terremoto scatena la distruzione del noccio. Sebbene distasso il contenuto, l'integrità strutturale della più grande fabbrica di cellule biologiche è compromessa irreparabilmente. Con l'aiuto della tecnologia internazionale della NASA, la maggior parte degli umani fugge verso altri pianeti del sistema solare. Mi trovo sull'ultima navetta per lasciare la Terra, quando l'impianto subisce un guasto strutturale. Per la legge SR19 sulla sicurezza fu sospeso in hypersleep fino a quando l'ambiente terrestre non avesse raggiunto le condizioni minime di abitabilità. Per la legge SR19 sulla sicurezza fu sospeso in hypersleep fino a quando l'impianto subisce un guasto. Per la legge SR19 sulla sicurezza fu sospeso in hypersleep fino a quando l'impianto subisce un guasto. Per la legge SR19 sulla sicurezza fu sospeso in hypersleep fino a quando l'impianto subisce un guasto. Per la legge SR19 sulla sicurezza fu sospeso in hypersleep fino a quando l'impianto subisce un guasto. Grazie per la visione!